Restyling di Villa Olmo, primo sopralluogo oggi degli architetti che lavoreranno tutto il mese di agosto. Al via il restauro e la riqualificazione della storica dimora, 5 interventi distinti per un investimento totale di oltre 11 milioni di euro, finanziati in gran parte con i fondi del PNRR. Dopo la firma del contratto venerdì scorso con il raggruppamento di imprese che si è aggiudicato agli interventi principali, è iniziata la fase di progettazione relativa alla diagnostica che deve essere consegnata alla sovrintendenza per capire come si opererà sull'edificio sottoposto a vincolo, chiariscono dal comune. Al lavoro per tutto il mese un team di 15 architetti che a inizio settembre consegnerà la documentazione, avviando poi a quel punto la progettazione effettiva delle opere che si dovrà concludere entro metà novembre. Palazzo Cernezzi a quel punto dovrà verificare e approvare la progettazione e soltanto al termine si potranno avviare i lavori, presumibilmente con il mese di dicembre. Questo per quanto riguarda la villa e il ristorante, mentre per il Casino Sud, la Fontana, la Vasca e le statue, già a fine agosto si vedranno gli operai in azione. In questo caso infatti gli interventi sono già stati aggiudicati.